È molto importante sottolineare l'evento che oggi è stato organizzato qui nella prestigiosa sede di Villa Umbra perché dal punto di vista qualitativo è un'iniziativa che va nella direzione giusta, auspicata da noi giuristi universitari ma anche da chi opera concretamente nel settore della pubblica amministrazione, è quello di formare gli amministratori e di curare particolarmente un aggiornamento che la normativa stringente impone quasi quotidianamente. Quindi un grosso endorsement nei confronti di chi promuove e organizza questo tipo di incontro di cui si avverte molto il bisogno e come operatori nei confronti della pubblica amministrazione e anche come cittadini.